soundcloud dropbox soundcloud dropbox www.soundcloud.com slash provenziano dj slash dropbox è l'indirizzo dove potete inviarci tutti i vostri lavori anche gli inediti quanto sei brava Manu perché no lo so tu dici slash veramente in maniera bella sei un uomo fortunato Casey and more questo è appunto un inedito insieme a Charita questo si chiama Guiding Star can't find an open space to free my mind tired of this hectic pace distressful race sometimes gets me sometimes gets me in times I'm tough set me up higher set me up higher I gotta stop I gotta stop you are you are you are you are you are my sanctuary to free my mind where I can't find to free my mind to free my mind to free my mind where I can't to free my mind to free my mind you are where I can't find to free my mind to free my mind to free my mind I can't find to free my mind to free my mind to free my mind you are I'll save you everything I gotta stop my mind my sanctuary my sanctuary my sanctuary my sanctuary Ma che bel dropbox che ci hai Selectato oggi caro Provenzano DJ Questo è un inedito Specifichiamo perché di solito c'è un mashup E un remix, questo è inedito e sta anche uscendo Ecco appunto, to Alla fascia che ci vuole male Sono quelle cose che abbiamo solo noi Si chiama Gun Insta, l'hanno fatto Casey and Moore E noi abbiamo Moore al telefono Max and Moore Ciao, come stai? Ciao, benissimo, noi benissimo, e tu? Bene, bene, tutto posto Allora, dimmi un po' tutto di te Di loro i nostri ascoltatori che magari non ti conoscono così bene Siamo due produttori che lavoriamo Da quando abbiamo 14 anni insieme Adesso quanti ne avete? Eh, 27 27 E abbiamo lavorato Con un sacco di etichette E niente, abbiamo Avuto un percorso tra Produzioni, collaborazioni con radio Televisioni, jingle Quindi abbiamo uno studio in Milano E niente, adesso ci abbiamo proposto questo nuovo singolo Con la cantante americana Mi ha scelto Durand Perfetto Posso chiederti una cosa che mi incuriosisce molto? Siete tutti e due italiani Perché avete scelto due nomi inglesi? Ma perché Sinceramente per noi E posso parlare anche a nome del mio social UK Sì, diciamo che Rimanere sempre bloccati qui in Italia Non è mai un Un bel Diciamo Una bella situazione Quindi si parte dal cognome Infatti Ma anche quando è cambiato cognome Si chiama Dorian Invece il mio social UK Sì, è proprio di origini irlandesi Quindi Quindi si era portato avanti Della nascita Esatto Esatto Perfetto, grazie Saluteci tanto Casey Mi raccomando Ci sentiremo a noi Grazie, ciao Grazie, ciao Ciao, ciao, ciao In arrivo Federico Scavo e Andrea Guzzolini This is Trump